Benvenuti nel mondo Gram Gram è un marchio di orologi di lusso fondato nel 1995 dal designer inglese Eric Lott, noto per la sua produzione di orologi di alta gamma dal design innovativo e dalla grande attenzione ai dettagli. Il nome del marchio è un omaggio all'orologiaio inglese George Gram, famoso per le sue innovazioni nell'ambito degli orologi da tasca nel XVIII secolo. I modelli di orologi Gram spaziano da orologi sportivi a cronografi a complicazioni sofisticate, come turbione e calendari perpetui. Uno dei modelli più noti di Gram è il Crono Fighter, un orologio con un pulsante avvolto sul lato sinistro della cassa, che consente l'attivazione del cronografo con la mano sinistra. Questo design innovativo è stato ispirato dagli orologi militari degli anni 40, caratterizzati da un'ergonomia insolita, ma incredibilmente efficace. I modelli di orologi Gram sono caratterizzati da un design elegante e sofisticato, capace di attirare l'attenzione di appassionati ed esperti del settore. Uno dei modelli più recenti di Gram è il Silverstone RS GMT, un orologio sportivo con una cassa in acciaio inossidabile, un quadrante nero e un movimento automatico svizzero. Grazie alla funzione GMT, l'orologio è in grado di visualizzare due fusi orari contemporaneamente, rendendolo perfetto per i viaggiatori frequenti. In sintesi, Gram è un marchio di orologi di lusso noto per il design innovativo e la grande attenzione ai dettagli. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso dal design innovativo e sostenibile, Gram è sicuramente una scelta da considerare. Grazie a tutti.